L'opera nella mia vita è stato qualcosa di veramente importante, perché fino a 30 anni avevo una fabbrica di mobili, avevo gli impiegati, tutte le persone, non pensavo mai a cantare opera, ero totalmente stressato, ma era un stress molto angosciante. Invece quando ho scoperto il mondo dell'opera, subito mi sono trovato benissimo. Mi sono trovato in questo mondo magico, questa sfida permanente, trovarsi con i limiti personali, conoscersi il corpo, conoscersi i limiti soprattutto. Però il fatto di conoscere tante culture, tanti teatri, tanti colleghi bellissimi, ti riempie lo spirito di energia. Io l'opera consiglio vivamente a tanti giovani che hanno dubbi di cominciare perché è qualcosa di un sacerdocio. Questo se non si fa sul serio non serve, perché uno deve pregare tutte le volte che canta, come fa il prete in chiesa. Cerchiamo di fare il meglio possibile, però è qualcosa di magico. Il don è la questione di dare, questo per me è l'opera. Grazie.